Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi parleremo di gelosia, gelosia. Ti racconterò una storia. C'è un ragazzo di 27 anni, naturalmente io conservo sempre la privacy, tutti i riferimenti sono puramente casuali per chi non lo sapesse, ma per farti capire un po' la storia, che è molto geloso. Geloso, ha una moglie, una figlia piccolissima, ed è gelosissimo. Praticamente chiude la moglie in casa per la gelosia. Non si può vivere con la gelosia e la lascia con la suocera in casa. Ogni riferimento è puramente casuale, mi raccomando. Detto ciò, cosa si può fare con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola? Esiste un bellissimo audio, un capolavoro MP3DCS dal titolo No Gelosia, che trovi sul sito internet www.ipnologiassociati.com della mia associazione di Prenologiassociati di Los Angeles Beverly Hills, che può essere utilizzato per te se sei geloso o gelosa, e anche per il tuo caro, la tua cara che non ti fa respirare a causa della gelosia, che sfocia in possessione, a tutti gli effetti, in sicurezza, chiamiamola come vogliamo. Se poi non vuoi scaricarti quest'audio potentissimo, con suggestioni DCS potentissime, naturalissime, senza nessun effetto collaterale, aggiungo perché l'ipnosi DCS del dottor Claudio Saracino, per chi non lo sapesse, proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills e non si può paragonare all'ipnosi fuffa, all'ipnosi da spettacolo, all'ipnosi da film, neanche, ascoltami bene, ascolta, apri le orecchie, all'ipnosi conformista e commerciale di Milton Edison, Brian Weiss, Dave Hellman, da cui io sono partito, ottima, nessuno dice il contrario, che si studia a scuola nelle università, perché il metodo è diverso, le suggestioni sono veramente diversissime e seguono una logica d'arte, ok, di due grandi dell'ipnosi, vera professionale, il professore dottor Miguel Angelgarai, la dottoressa Rina Brunini e 12 anni di esperienza del sottoscritto diretta e indiretta, anche sulla mia persona, perché mi ipnotizzo dal 2008 ad oggi, H24, anche adesso sono ipnotizzato e magari te pensi che lo sia vero, ma non è importante, l'importante è che tu pensi che è possibile, detto ciò, se tu hai un problema di gelosia, quasi possessione, veramente, dove non puoi più farcela, non resisti, o perché sei tu la parte in causa, oppure la tua compagna o il tuo compagno, bene, scaricati in completo anonimato quest'audio potentissimo dal titolo non gelosia e cambia il tuo destino, perché non si può vivere con una persona gelosa accanto oppure con se stessi che si è gelosi, naturalmente la causa sta nel tuo subconscio, nel tuo subcosciente sta la causa che risale alla tua infanzia, il tuo subcosciente è stato impressionato, indottrinato, ipnotizzato da qualcuno che era molto geloso e purtroppo non esiste nessun farmaco che ti possa togliere quell'immagine o quell'immagine che ti causano la gelosia, quasi possessione, soltanto l'ipnosi di CS vera e professionale, anche da solo, senza dare conto a nessuno, magari perché ti vergogna di andare in giro, oppure la tua compagna o il tuo compagno non vogliono, perché si può utilizzare anche per chi non vuole il tuo aiuto a chi non può essere aiutato, bene, scaricati quest'audio e ricordati, se eseguirai le istruzioni molto facili, a prova di nonna, a prova di piccolo, a prova di idiota, istruzioni ripeto ancora una volta molto facili, se solo se le eseguirai alla lettera, tu veramente risolverai questo problema anche con un solo audio mp3 di CS dal titolo non gelosia, oppure se hai bisogno di una presenza fisica, siccome il sottoscritto momento ha sospeso le proprie sessioni online di ipnosi di CS vera e professionale, su Skype soprattutto, ma anche su altre app in qualsiasi parte del mondo, puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, della tua città, che abbia però attenzione, ascoltami bene, che abbia già affrontato con l'ipnosi vera e professionale la gelosia, il tuo caso, perché se qualcuno non lo sa, mi riferisco soprattutto agli aspetti all'ipnosi, esiste anche l'ipnosi, generalista e l'ipnosi, specialista, ok? Il professionista deve essere uno specialista, 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 cioè aver, perché è importante la suggestione, oltre che il metodo e la procedura, la suggestione è fondamentale, cioè le parole create ad arte sono fondamentali, tutti sanno dipingere, ma ricordati, non tutti sono artisti, d'accordo? Fammi tutte le domande del caso, non aspettare, agisci ore prima che sia troppo tardi, perché veramente con la gelosia, possessione, non si scherza, non si scherza ragazzi, ok? Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino e fai share condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita veramente. E poi seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio e alla prossima, ciao!